ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita oggi andiamo a trattare un'altra news su una tematica che mi interessa molto le traduzioni siamo su endless space 2 titolo che non è mai stato tradotto in italiano ma ora potrete trovare la traduzione direttamente nel workshop del gioco sappiamo che gli sviluppatori di amplitude se non sbaglio già il primo e anche endless legend lo avevano tradotto in italiano soltanto grazie agli utenti e questo endless space 2 che diciamo un gioco a turni spaziale avevano già dichiarato che mai e poi mai li avrebbero lo avrebbero tradotto in italiano quindi gli utenti hanno fatto un ottimo lavoro lo trovate tra le mod più scaricate direttamente nel workshop del gioco ed è tradotto vi ricordo al 95 per cento cioè il sottotitolo qua del video non è tradotto ma questo è poca roba perché una propaganda in sintesi ma i dialoghi all'interno è tutto tradotto 95 per cento ricordo ad eccezione dei di tutti dlc che hanno iniziato adesso lavorarci insomma da poco quindi il gioco ve lo potete godere insomma già nella nostra lingua sono passati diversi anni dall'uscita però 4 se non sbaglio però finalmente ve lo potrete godere completamente in italiano finalmente ed era anche ora se amate diciamo un'alternativa stellaris ma a turni davvero molto profondo molto carino i capitoli precedenti erano davvero davvero molto interessanti ma ora il secondo titolo è mass horizon mass horizon l'ho reportato con una live con un video mi pare il gioco è completamente in italiano ma non grazie agli sviluppatori ma grazie a un gruppo di utenti che lo hanno tradotto completamente all'inizio la traduzione che avevo questa qua che vedete non aveva molte parti della space pedia perché dicevano che insomma non erano importanti i fini del gioco e per veloci da l'uscita della traduzione non non l'avevano tradotta ma sono rimasto sorpreso perché ho scoperto che praticamente è stata tradotta quasi tutta pure quella e adesso vi spiegherò come scaricarla allora diciamo che non è fondamentale giocarlo in italiano questo titolo però chi lo vuole godere insomma andate nelle discussioni riguardo al gioco di mass horizon su steam a digitate traduzione italiana premete invio e trovate la discussione ovviamente io questo non è il luogo per spiegarvi come installarla c'è tutto scritto qui insomma e vedete anche le percentuali tradotte vedete che praticamente ormai tutto fatto quindi ve lo potete godere in italiano ovviamente non scrivetemi di dirmi dicendomi non funziona mi spieghi come fare c'è tutto scritto lì quindi e spero di aver fatto cosa credita e alla prossima